Le banche centrali, stanno già da anni lavorando per l'introduzione della moneta digitale, la chiamano CBDC, Central Bank Digital Coin. La spinta verso l'eliminazione del contante va proprio in questa direzione, vogliono abituarci ad usare i pagamenti elettronici, per introdurre più facilmente la moneta digitale. Tutti promuovono l'uso dei pagamenti elettronici, magnificando negli aspetti positivi, come l'eliminazione dell'evasione fiscale, e la riduzione dei rischi di rapine e furti. Indubbiamente, alcuni aspetti positivi ci sono, ma non è questo il motivo per cui vogliono eliminare il contante. Ci sono degli aspetti negativi, che ovviamente nessuno ci racconta, e che sono molto preoccupanti. Prima di tutto ci sono le commissioni bancarie, vediamo cosa succede attualmente con i pagamenti elettronici. Supponiamo che un cliente, voglia acquistare qualcosa da un esercente, e vuole pagare con la carta di credito. Il cliente ha una sua carta di credito, rilasciata dalla sua banca, dove è anche titolare di un conto corrente. Anche l'esercente ha una sua banca di riferimento, dove è titolare di un conto corrente. L'esercente ha inoltre un POS, un lettore di carte di credito, fornito da una banca che fornisce il servizio di pagamento. Tale banca può anche essere la stessa dove l'esercente ha il conto corrente, ma spesso è un'altra banca, che fornisce il servizio a prezzi più bassi. L'esercente dovrà pagare per avere il dispositivo del POS, e anche per il servizio fornito. La banca che gestisce il servizio POS, è in collegamento con i principali circuiti di pagamento come, il Bancomat, Mastercard, Visa, American Express, ecc. Il servizio POS, legge i dati contenuti sulla carta di credito, e si collega con il circuito previsto dalla carta, ad esempio il Bancomat. Il circuito Bancomat si collega con la banca del cliente, per vedere se ci sono soldi sul conto. Se è tutto ok, viene effettuato il trasferimento di denaro dal conto corrente del cliente a quello dell'esercente. Ovviamente, la banca del cliente, la banca dell'esercente, la banca del servizio POS, e i circuiti di pagamento, non lavorano gratuitamente, e vogliono essere pagati. Quindi ogni pagamento elettronico prevede delle commissioni. Nel caso il pagamento sia fatto usando un POS, oltre alle commissioni, l'esercente deve pagare per il servizio POS, e per il noleggio del lettore della carta. Tra commissioni e costo del servizio POS, al sistema bancario vanno da un minimo del 2%, ad oltre il 5% della transazione, a seconda del circuito di pagamento utilizzato. Il cliente ha la sensazione che lui non paga niente, perché sia in contanti che con carta di credito, l'importo da pagare è lo stesso. In effetti tutti i costi sono a carico dell'esercente. Ma l'esercente, di sicuro farà in modo di recuperare tali costi, alzando il prezzo dei prodotti che vende. Tale incremento di prezzo grava su tutti, anche su chi paga in contanti. Ricordo quando ero più giovane, e compravo un vestito, diciamo da lavoro. Allora si doveva vestire con giacca e cravatta. Scelto il vestito, mi accingevo a pagare con la mia carta American Express, e mentre porgevo la carta dicevo, se preferisce pago in contanti, magari mi fa un piccolo sconto. Bene, ottenevo sempre il 5% di sconto. Ora vediamo che differenza c'è, tra pagare in contanti, e pagare elettronicamente. Se una persona paga in contanti, con una banconota di 100 euro, e chi riceve quella banconota a sua volta paga in contanti ad altra persona 100 euro, e questa terza persona paga 100 euro ad un'altra persona, e così via. Quella banconota rimarrà sempre una banconota del valore di 100 euro. Se invece i pagamenti vengono fatti elettronicamente, ad ogni transazione, il sistema bancario detrae il costo delle commissioni. Vediamo cosa succede se usiamo la fascia più bassa di commissioni, pari al 2%. Al primo pagamento di 100 euro, viene detratto un 2%, e rimangono in circolazione 98 euro. Al secondo pagamento va sottratto ancora un 2%, e rimangono 96,04 euro. Al terzo pagamento rimangono in circolazione 94,12 euro. Al quarto pagamento rimangono 92,24 euro. Al centesimo pagamento rimangono in circolazione 13,26 euro. Al centocinquantesimo passaggio, il sistema bancario si è preso quasi tutti i 100 euro, rimangono in circolazione solo 5 euro. Alle banche, entrano dei soldi senza fare quasi niente, a parte l'investimento iniziale, ormai ampiamente ammortizzato. Così si sottraggono soldi alla economia del paese, soldi che potrebbero essere usati per comprare altri prodotti, e che invece vanno ad arricchire il sistema bancario. Le commissioni sui pagamenti elettronici, sono il male minore, quello che vogliono fare, è introdurre la moneta digitale, la chiamano CBDC, Central Bank Digital Currency, già il nome ci dice che è una moneta delle banche centrali, e non degli stati, e già questo dovrebbe far sorgere dei sospetti. Le banche centrali, che ricordo ancora una volta sono di proprietà delle banche private, sono riuscite, da oltre 100 anni, a emettere denaro e prestarlo agli stati, si chiama moneta a debito, e tutto ciò è iniziato con la nascita della Federal Reserve, e di un sistema monetario basato sull'oro, che i potenti banchieri riuscirono ad imporre a tutto il mondo. Il cosiddetto, gold standard, che consentiva di cambiare le banconote in oro. Nel 1944, con gli accordi di Bretton Woods, gli Stati Uniti imposero un nuovo sistema monetario, basato sul dollaro, sempre convertibile in oro, e con un regime di cambi fissi. Nel 1971, con la presidenza Nixon, fu abbandonata la convertibilità in oro, che garantiva il valore della moneta, e nacque la moneta fiat, ovvero moneta garantita da niente, e fu anche abbandonato il regime di cambi fissi. Tutte le banche centrali del mondo adottarono lo stesso provvedimento. Nel 1981, è avvenuto il famoso divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia, per cui la Banca d'Italia non era più obbligata ad acquistare i titoli di Stato, rimasti invenduti, mettendo lo Stato italiano in mano ai mercati finanziari, che da allora determinano i tassi di interesse. Ciò naturalmente ha contribuito a far aumentare enormemente il nostro debito pubblico. Per questo dobbiamo ringraziare l'ex ministro Andreatta e Carlo Azzeglio Ciampi, allora governatore della Banca d'Italia. Negli anni 90, lo Stato perde totalmente il controllo della Banca d'Italia. Vari governi emanano una serie di leggi che prevedono la trasformazione delle banche di Stato, in società per azioni, ed anche la completa autonomia della Banca d'Italia. Poi, tali banche vengono privatizzate, e la Banca d'Italia, finisce sotto il controllo del sistema bancario privato. Nel 1992, con la firma del Trattato di Maastricht, e l'ingresso nell'Unione Europea, l'Italia ha perso completamente la sua sovranità monetaria. Da allora, tutto viene deciso dalla Banca Centrale Europea. Non sarà più la moneta ad adeguarsi all'economia, ma l'economia a doversi adeguare alla moneta, svalutando i salari. Quello che era il sogno europeo è diventato l'incubo europeo, ma sembra che siano in pochi a rendersene conto. Nel 2023, il governo Meloni, ha cercato di eliminare l'obbligo per gli esercenti di usare il POS, per importi sotto i 60 euro, ma l'Europa ci ha imposto di non farlo, e il governo ha dovuto, a malincuore, abbassare la soglia a 30 euro. Segno evidente che non possiamo più decidere niente. Tutto ciò è stato propedeutico all'introduzione della CBDC, la nuova valuta digitale, di imminente introduzione. In questo percorso di avvicinamento alla moneta digitale, durato vari decenni, i nostri governi hanno ignorato di non aver rispettato la nostra Costituzione, prima forse abbagliati dal sogno europeo, ma ora ricattati da un'Europa, che usa l'arma dell'emissione monetaria, per obbligarci a fare quello che viene deciso a Bruxelles, o a Francoforte, o a Strasburgo, o forse ancora più lontano. L'articolo 1 e 47 della Costituzione, sono del tutto disattesi, in quanto l'Italia ha perso la sua sovranità monetaria, e non può mettere in atto, autonomamente, politiche a sostegno dell'economia, a tutela del risparmio, e del credito. Prevale l'interpretazione che i trattati internazionali, hanno prevalenza sulla Costituzione. Per quanto riguarda l'uso del contante, c'è un documento della BCE, che spiega che il contante è l'unica valuta a corso legale. La moneta scritturale, o bancaria, e quindi i nostri depositi su conto corrente, non possono essere considerati valuta legale per un pagamento. Ovviamente, è giusto che sia così, perché quando depositiamo del denaro in un conto corrente bancario, quel denaro diventa di proprietà della banca, che risulta creditrice verso i nostri confronti. Se pago con un assegno un mio debito, e nel frattempo la banca fallisce, quell'assegno non sarà pagato, e legalmente risulto ancora debitore. Nonostante ciò, l'Europa continua a fare pressioni per ridurre il contante, andando contro le sue stesse direttive. È evidente che stanno preparando la strada all'introduzione della moneta virtuale, in modo che la gente non si accorga troppo della differenza, e dia per scontato il pagamento virtuale. E fino qui tutto bene. Ma sentite cosa ci dicono questi eminenti personaggi, che sono a capo del sistema monetario. Agustin Carstens è l'attuale capo della Banca dei Regolamenti Internazionali, che può essere considerata la banca a capo di tutte le banche centrali. Carstens è uno dei personaggi più influenti del settore bancario, appartiene anche al Gruppo dei Trenta, la potente organizzazione dell'elite dei banchieri, di cui è membro anche Mario Draghi. Now, in all our analysis on CBDC, in particular for the use of general, to the general use, we tend to establish the equivalence with cash, and there is a huge difference there. For example, in cash, we don't know, for example, who is using a 100 dollar bill today, we don't know who is using a 1,000 peso bill today. A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability, and also we will have the technology to enforce that. Those two issues are extremely important, and that makes a huge difference with respect to what cash is. Therefore, I think this lends itself to design carefully CBDC in such a way that they will not be a vehicle for fragmentation, for financial instability, and for spillovers. Therefore, I don't think that by themselves CBDC is a threat to the international monetary system. For example, in the issue of currency substitution, if an advanced economy issues a CBDC and somebody in a third country wants to use it, it will require the consent of the central bank of the residents of that person. Therefore, the degree of control will be far bigger. Now, this, I think, is good news, because I think that it really provides the ground for us to think on how can we use CBDC to really obtain these higher objectives of facilitating payments internationally. How are we going to make them to reduce costs, to enhance inclusion? How are we going to make this route run smoothly? That is something that so far we haven't achieved. There are many efficiency gains that can be captured, and I think our concentration should be there. The name of the digital currency, CBDC, Central Bank Digital Currency, already tells us that it is a currency of central banks, and have you heard that it says Carstens? The banks will have the power of knowing everything of every single transfer of money. Who pays, who receives, and why the transfer is the reason, and especially the banks will have the power, if it is supposed to be offered by law, to block every single transfer of money. Carstens is giving this idea to be extremely positive, using terms like frammentation, inclusion, spillover, which explains very little. What is clear, is that they want to take the right to use the money freely, so that Carstens talks about the absolute control of every payment, but says that they do it to facilitate the payment, which is a contradiction in terms. The point is, that a system of the kind of a restrictive system will be used by the central bank. What will be the rules that involve the circulation of money? Who will establish that the central bank are private entities, controlled by the private banking system, and that the most part of the state has given its sovereignty, in our case the BCE, which is an entity sovranazionale private entity, whose capes are not been elected by us citizens. The digital currency, used in this way, is used to use of the type Grand Fratello of Orwen, which is the tool ideal for a monetary monetary system. Mr. Bully, is the number two of the International Monetary Fund, which, along with the World Bank and the International Bank of the Bank, represent the most important institutions in the banking world. The CPDC can allow government agencies and private sector players to program, to create smart contracts, to allow targeted policy functions, for example, welfare payment, for example, consumption coupon, for example, food stamps. By programming CPDC, those money can be precisely targeted for what kind of people can own and what kind of use this money can be utilized, for example, for food. So this potential programmability can help government agencies to precisely target their support to those people who need support. So that way can also improve financial inclusion. Bully, ci fa alcuni esempi, da cui si capisce la grande differenza tra banconote, e moneta digitale. La moneta digitale può essere programmata, può essere emessa per utilizzi specifici. Negli esempi citati si tratta di utilizzi sociali, in cui la moneta è programmata per determinate tipologie di cittadini, e può essere spesa con delle precise limitazioni. Questi esempi di programmazione, ci fanno capire che la moneta potrebbe essere programmata anche in altri modi, ad esempio potrebbe avere una scadenza, o potrebbe essere usata solo per certi tipi di beni e servizi, o solo in certi luoghi. Ci potrebbe essere un utilizzo specifico, legato ad ogni cittadino, e qui il discorso si fa molto più complesso e preoccupante. Ogni cittadino potrebbe essere valutato per i suoi comportamenti, attraverso un sistema a punti. Sto parlando del sistema dei crediti sociali, già in vigore in Cina. Se un cittadino ha un buon punteggio, può spendere liberamente la propria moneta per acquistare determinati beni e servizi. Se ha un punteggio insufficiente i suoi acquisti potrebbero essere limitati o bloccati. È evidente che così, la nostra libertà di spendere non esiste più, e saremo costretti a fare quello che ci impongono di fare. Ma questa non è più libertà, non è più democrazia. È dittatura monetaria, a supporto di un sistema dittatoriale, che ci verrà imposto per il nostro bene. Questo è quello che ci stanno dicendo e ci diranno. Il secondo aspetto che la CBDC può aiutare la inclusione finanziaria, è perché del suo status legale tendere. Perché la CBDC è un obbligazione della Banca Centrale. E la obbligazione della Banca Centrale è una legale tendere in ogni paese. Quindi è widely accettato. Questo crea un valore potente per tutti per usare. Bully, continua, praticamente dicendo che non potremo rifiutarci di usare la moneta digitale, perché per legge avrà valore legale, e le banche centrali avranno il diritto di emetterla, e dato che avrà valore legale sarà ampiamente accettata da tutti. Se la moneta avrà valore legale significa che gli stati emaneranno delle leggi apposite, e che le banconote, che ora sono l'unica valuta legale, saranno destinate a scomparire. Sentite ora cosa ci dice Larry Fink, amministratore delegato del fondo di investimento BlackRock, che gestisce un patrimonio di circa 10.000 miliardi di dollari, ed è il principale azionista di tutte le più importanti società del mondo. Larry Fink, è una persona molto influente, e rappresenta i cosiddetti poteri forti. Fink, è a stretto contatto con le banche centrali, ed è lui che nel 2019, intervenendo ad una riunione delle banche centrali, ha ammesso che l'attuale sistema monetario non è più in grado di gestire le crisi economiche, e va cambiato, ed ha anche proposto come cambiarlo. Avete sentito cosa dice Fink? I potenti della terra, che lui rappresenta, non gradiscono la democrazia, ma amano un sistema dittatoriale, che consente un più facile controllo dell'economia. Questa dichiarazione, è una ulteriore conferma che i potenti della terra stanno scoprendo le loro carte. Già nel 1975, la Commissione Trilaterale, una delle organizzazioni segrete creata dalla elite dei potenti, aveva pubblicato un libro, dal titolo, The Crisis of Democracy, la crisi della democrazia, che sosteneva che i problemi di governabilità, sia in Europa che in America, derivavano da un eccesso di democrazia, di conseguenza, era auspicabile che le decisioni venissero prese da un ristretto numero di persone, e si instaurasse un regime tecnocratico. Aaron Russo, era un regista e produttore di film, e negli ultimi anni della sua vita si è dedicato alla politica. Russo fu amico di uno dei membri della famiglia Rockefeller, Nicholas Rockefeller, che cercava di arruolarlo nel gota dei potenti. Tramite questa amicizia, venne a conoscenza di una serie di notizie molto riservate. Prese coscienza di quello che i potenti banchieri volevano fare, e decise di rivelarlo, producendo un suo documentario, in cui parlava dei banchieri e del nuovo ordine mondiale. È morto ad agosto del 2007, poco prima di morire rilasciò una intervista clamorosa ad Alex Jones, di cui vedrete una piccola parte. Il mio amico, Nick Rockefeller, uno dei Rockefeller famigli, e quando ero rinno per governo in Nevada, è venuto a me, introduce himself a me con un attore, e noi became friends, e abbiamo parlato di cose, e ho parlato molto molto da Mr. Rockefeller. E uno di cose che abbiamo parlato, è quello che abbiamo parlato dell'ultima plan della banca industria, lo quelli che vogliono accomplice. E il goals del banca industria, non solo il riservatore riserva, ma anche le private banche in Germania, in England, in Italia, all over il mondo, allo lavorato. Ci sono tutti i centrali banchi, e sono tutti i centrali banchi, e sono tutti i comunisti manifesti. E centrali banchi è uno dei majori plai di della comunistia manifesto. Abbiamo parlato dell'America come una capitalista, ma almeno abbiamo una centrali banchi che plansi tutto per noi, e la graduated income taxa è un altro planko di la comunistia manifesto. Quindi hai due majori plai di la comunistia manifesto che hanno stato portato in perché del riservo del riservo. Ok? Quindi l'ultima goal che questi hanno in mente, è il goal di creare una una un'azienda per la banca industria, per la banca industria. E l'azienda in secchi, la euro, e l'azienda europea, è una parte di dell'azienda. Ora hanno cercato di fare in America, con l'azienda europea, con l'azienda europea. E voglio creare un nuovo mercato, il amaro. E l'azienda è creare un'azienda, per horrifica che tutti hanno, perché tutti hanno un RFID chip implanto in loro, e l'azienda alle stranebano in questi chips. Chia nemmeno più di boni. E questo è un giro di me troppo Roccafello, questo è quello che voglio dimensi. E l'azienda è fatta in l'azienda delle Jonesze. So invece di avere di mani circa che cacere, ogni 8 anni hai e se non hanno un'acchipo, si possono prendere quello che vogliono quando vogliono. Se si dicono, è così molto in taxa, si possono prendere tutto il chip. Total control. E se, come me o io, e si sono protesta cosa stanno facendo, e non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla. E che c'è un'acchipo che ha un'acchipo, e che c'è tutto. Tutto, tutto, è in là. E quindi, vogliono un governo un unico che si è controllato da loro, tutti si è chippati, tutto il tuo investimento in queste chip e si è controllato le chip e si è controllato. E tu diventerai un slave, diventerai un serf, questo è il loro obiettivo, questo è il loro intenzione. Per completezza dell'informazione, voglio anche mostrarvi altri due argomenti dell'intervista, che vi stupiranno. e io likedo, e è un molto, 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 e è un molto, 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 e noi parlavamo e share ideas e pensi. E' il mio è il mio è il mio che ho detto, 11 mesi prima 9-11 mai avuto, che c'è un'evento, Non ho detto che c'è un'evento, ma c'è un'evento, e in questo evento è un'evento, è un'evento, è un'evento, dell'evento, è un'evento, ed è un'evento, noi, i bambini, i bambini, a denunciare che la elite dei potenti della Terra vuole creare un nuovo ordine mondiale, un governo mondiale, una dittatura. Il filmato che segue è del 2002, e Jones tuttora è molto attivo in internet, con un suo sito web, Infowars.com, e numerosi video di denuncia pubblicati sui social networks. Anche il precedente filmato è stato realizzato da Alex Jones nel 2007, nel corso di una intervista ad Aaron Russo. il nuovo ordine mondiale pushingi for world wide government, a cashless society, open borders, total and complete tyranny. E, e, creando open borders where there's no national sovereignty and only global bodies that control all the resources. By centralizing and socializing health care, the state becomes God, basically, when it comes to your health. and then, by releasing diseases and viruses and plagues upon us, we then, basically, get shoved into their system. A partire dal 1694, quando in Inghilterra, per la prima volta nella storia un governante ha ceduto la sua sovranità monetaria, ad una banca privata, il sistema bancario, come una piovra, nel corso degli anni è riuscito sempre di più ad imporre il suo potere. Qualcuno già se ne era accorto nel 1912, quando stava per nascere la banca centrale, la Federal Reserve, e pubblicò un libro che conteneva questo disegno allegorico. Da allora, è stato un crescendo di provvedimenti, con cui il potere politico ha sempre più ceduto terreno, e potere, al sistema bancario privato. Le tasse sui redditi servono a pagare l'enorme massa di debiti, che gli stati hanno accumulato, e il sistema bancario è riuscito a diventare una piovra ancora più mostruosa, estendendo i suoi tentacoli a tutti i settori della vita politica, economica, sociale. Un sistema monetario basato sul debito, è un sistema insostenibile, per un motivo molto semplice. Cercherò di spiegarlo semplificandolo al massimo. Quando lo stato ha bisogno di soldi, emette dei titoli di stato, ovvero chiede un prestito. La banca centrale emette moneta per un importo equivalente. Tale moneta sarà presa in carico dal sistema bancario, che acquisterà i titoli emessi dallo stato, ma, allo scadere del prestito, vuole in cambio la restituzione del capitale più un interesse. così, lo stato, incassa i soldi di cui ha bisogno. Quando scade il prestito, ad esempio dopo un anno, lo stato dovrà restituire il capitale gravato da interessi. Ed è qui che viene fuori l'insostenibilità del sistema. Sembra incredibile, ma gli interessi costituiscono denaro non emesso da nessuno, è denaro che non esiste. Quindi, per ripagare il debito, lo stato è costretto a ricorrere ad un nuovo prestito, e magari anche ad alzare le tasse, o diminuire i servizi ai cittadini per risparmiare denaro. Nel concetto di moneta a debito, c'è una insostenibilità matematica, facilmente dimostrabile. Facciamo un esempio. Supponiamo che lo stato, ogni anno, abbia bisogno di 10 miliardi per finanziare i propri progetti innovativi. Alla scadenza del debito, mettiamo dopo un anno, dovrà restituire 10 miliardi, più l'interesse, supponiamo del 3%, quindi dovrà restituire 10 miliardi e 300 milioni. L'anno successivo, dovrà prendere un prestito di 10 miliardi, più i 300 milioni di interessi, e restituire, dopo un anno, 10 miliardi e 609 milioni, e così via. La cosa che salta all'occhio, è che la crescita del debito è di tipo esponenziale. Ciò significa che è destinata a crescere all'infinito. Nel grafico è mostrata una crescita con interessi al 10% per evidenziare più facilmente l'andamento esponenziale. Con un interesse al 3% annuo, l'andamento è sempre esponenziale, solo che cresce più lentamente nel tempo, linea rossa nel grafico. Questo grafico mostra i veri dati del debito italiano, dal dopoguerra in poi. Come si può notare, la crescita è continua, di anno in anno. Nel primo periodo, la crescita è molto bassa, grazie agli aiuti del piano Marshall. Poi inizia ad accentuarsi nel 1971, con l'abbandono del gold standard, e l'inizio della moneta fiat. C'è una impennata negli anni 80, per la spesa folle delle pensioni concesse con estrema facilità, sia per invalidità, che per poca anzianità di contribuzione, ed anche per gli sperperi della cassa del mezzogiorno. Poi c'è un trend continuo di crescita, inarrestabile. Questa crescita esponenziale, non è tipica dell'Italia, ma riguarda tutto il mondo. Questo grafico, ad esempio, mostra l'andamento del debito USA. Si parla quasi sempre del rapporto debito-PIL, in rosso nel grafico, in cui sembrerebbe che quando scende, scende anche il debito pubblico, ma non è così, il debito continua sempre a crescere. Credo si siano inventato questo parametro per confondere le idee, e mascherare la crescita continua del debito. La crescita esponenziale del debito tende all'infinito, ed è quindi insostenibile, prima o poi è destinata ad essere inaccettabile da parte della popolazione. Il cartello dei banchieri che avevano cospirato, ed erano riusciti a far emanare la legge che aveva creato la Federal Reserve Bank, ed imposto il sistema di moneta a debito, parlo dei Rockefeller, dei Rothschild, dei Warburg, dei Morgan, degli Schiff, ed altri, sapevano bene che il sistema, a lungo termine, era matematicamente insostenibile. E avendo paura di essere smascherati, si sono preoccupati di manipolare l'opinione pubblica, e di inserire loro uomini nella politica e nelle istituzioni che contano. Una delle prime azioni ideate dal cartello, fu quella di imbavagliare la stampa prendendone il controllo. Il compito fu affidato a John Rockefeller che, attraverso prestanomi, assunse il controllo di numerose importanti pubblicazioni come il Washington Post, Newsweek, The Weekly Magazine e molte altre testate. La stessa cosa fu realizzata per il controllo delle radio e del cinema, ottenuta tramite alcune banche del cartello. Nel corso degli anni, il cartello dei banchieri, attraverso i loro figli e di loro successori, si è servito di numerose organizzazioni, a sostegno del proprio progetto. Parlo di organizzazioni massoniche o paramassoniche, molte delle quali sono vere e proprie organizzazioni segrete. Questa è una lista incompleta delle principali organizzazioni, più o meno segrete, al servizio del cartello bancario. Tra le principali citiamo, il gruppo Bilderberg, la Commissione Trilaterale, l'Aspen Institute, il CFR, che è un gruppo americano, il Club di Roma, la Fabian Society, le Logge Massoniche, e il RIA, che è un gruppo inglese. Lo scopo dichiarato di queste organizzazioni, è a fin di bene, ma questa è solo la facciata. Il loro obiettivo nascosto è di servire il cartello bancario, e solo i vertici dell'organizzazione ne sono a conoscenza. Tali organizzazioni, più o meno segrete, cercano di controllare le organizzazioni istituzionali ufficiali internazionali, quali l'ONU, la NATO, l'Unione Europea, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il WTO, World Trade Organization, ecc. La rete del cartello bancario si estende inoltre anche a moltissime organizzazioni non governative, direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento. Tra le principali citiamo, il World Economic Forum, ma anche il WWF, l'UNICEF, e tante altre, operative nel settore umanitario, e dei diritti civili. Molto spesso, lo scopo dichiarato di queste organizzazioni è a fin di bene, ma questa è solo la facciata. Il loro obiettivo nascosto è di servire il cartello bancario, e solo i vertici dell'organizzazione ne sono a conoscenza. Il cartello bancario controlla soprattutto il settore finanziario, attraverso istituzioni come, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, la Banca dei Regolamenti Internazionali, la Banca Centrale Europea, e naturalmente, tutte le banche centrali. Questo controllo, viene esercitato attraverso il passaggio disinvolto di uomini di potere, dalle organizzazioni più o meno segrete, a posizioni di potere nelle istituzioni ufficiali. Il cartello seleziona e coltiva i futuri leader, e riesce ad inserirli nelle istituzioni ufficiali. Tutte queste organizzazioni, hanno una facciata umanitaria, su cui non si può non essere d'accordo, ma nascondono obiettivi segreti che perseguono molto efficacemente. Per farvi capire meglio, come operano queste aziende, vi riporto le parole che ho trovato in una tesi, di uno studente di antropologia culturale, dell'Università di Bologna, dal titolo, Moneta e Potere, che descrivono bene la doppia faccia di tali organizzazioni. Riferendosi al fenomeno dei migranti dice. La disperazione sorge soprattutto, da attenti programmi attuati sotto legida di importanti enti governativi mondiali, quali, ONU, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, meglio conosciuta come Banca Mondiale. Sono infatti proprio gli enti che dichiarano nei loro statuti di voler prevenire tempeste economiche, e crisi valutarie, che creano fame e disservizi. È assurdo, vedere come i paesi del cosiddetto terzo mondo, siano dilaniati prima dal debito, e poi dalla fame. John Perkins, un americano, progettista di reti elettriche, ha scritto un libro dal titolo, Confessioni di un sicario dell'economia, che è un atto di accusa contro la Banca Mondiale, ed il Fondo Monetario Internazionale. Perkins, ad un certo punto della sua carriera, si è accorto di lavorare per i poteri finanziari, esterni alla sua azienda, e si è autodefinito come un sicario dell'economia. Racconta che era inviato in paesi in via di sviluppo, per progettare la rete elettrica, paesi a cui venivano proposte grandi infrastrutture, come reti elettriche, aeroporti, strade, ferrovie, ecc. In questi paesi, la Banca Mondiale finanziava il progetto, ma erano paesi che non sarebbero stati in grado di restituire il prestito. Al momento opportuno, interveniva allora il Fondo Monetario Internazionale, che proponeva un piano di ristrutturazione del debito, ed il paese veniva così messo in ginocchio e depredato delle sue risorse naturali. In altre parole, l'obiettivo principale del cartello bancario, è fare indebitare il mondo, e mantenere saldamente il controllo della emissione monetaria. Scusate se mi dilungo, ma certi chiarimenti sono necessari. Torniamo al sistema monetario, e rivediamo il percorso che ci sta portando verso la moneta digitale. Nel 1913, un cartello di banchieri riesce, con la corruzione e l'inganno, a far nascere la Federal Reserve Bank, e ad appropriarsi del potere di emettere moneta, sostituendosi allo Stato. Nasce così la moneta a debito, che comporta un incremento continuo del debito pubblico, e la tassa sui redditi, che ha lo scopo di far fronte agli interessi da pagare. Nel 1946, avendo vinto la Seconda Guerra Mondiale, con gli accordi di Bretton Woods, gli Stati Uniti modificano il sistema monetario, che rimane sempre a debito, ma impongono il predominio del dollaro. L'unica valuta convertibile in oro è il dollaro, che diventa la valuta per gli scambi internazionali. Nel 1971, qualche Stato, ad esempio la Francia, aveva richiesto alla Federal Reserve Bank, la restituzione dei depositi in oro, preoccupato dall'eccesso di dollari, emessi per finanziare la guerra in Vietnam. Gli Stati Uniti, per paura che altri stati richiedessero l'oro depositato, evidentemente insufficiente per cambiare i dollari in circolazione, decretarono la fine della convertibilità del dollaro in oro. Fu la fine del gold standard, che dava valore alle banconote in circolazione, ed iniziò a circolare la cosiddetta moneta fiat, ovvero moneta emessa dal nulla senza nessuna garanzia. Questo secondo cambiamento del sistema monetario, ha fatto crescere la quantità di denaro emesso rispetto allo sviluppo economico, generando un aumento accelerato del debito pubblico. Nel 2008, scoppia, negli Stati Uniti, la crisi dei mutui subprime, che coinvolge tutto il settore bancario internazionale. I mercati cominciano a speculare sui titoli degli stati, e scoppia la crisi della Grecia, che rischia di estendersi anche all'Italia e all'euro. Mario Draghi, allora a capo della BCE, vara il programma quantitative E-Sing, e inizia ad emettere moneta a go-go, per salvare l'euro. Moneta che però non va a finire nell'economia reale, ma rimane nella pancia delle banche e non genera inflazione. Verso la fine di agosto del 2019, in una riunione delle banche centrali, viene dichiarato che l'attuale sistema monetario, non è più in grado di risolvere le crisi economiche, e va cambiato. Larry Fink, amministratore delegato del fondo di investimento BlackRock, propone una sua soluzione. In pratica dice che le banche centrali, oltre al sistema monetario, devono avere anche accesso al sistema fiscale, e, se necessario, ricorrere allo strumento noto come helicopter money, ovvero distribuire soldi a pioggia per aiutare l'economia. La proposta di BlackRock viene immediatamente messa in atto a settembre 2019. La Federal Reserve inizia ad emettere grandi quantità di moneta, ma tale moneta non piove nelle tasche dei cittadini, o delle aziende, ma rimane nel settore bancario. Il grafico mostra il momento di rottura del sistema monetario. Non sto a spiegarvi il grafico, perché sarebbe troppo lungo e complesso, ma vedete che la curva rossa, che rappresenta i depositi bancari nelle banche commerciali statunitensi, ha un andamento lineare fino a settembre 2019. Quando la linea rossa si incontra con la blu, che rappresenta i depositi delle banche commerciali presso la banca centrale, in quel momento la Federal Reserve inizia ad emettere grandi quantità di denaro che vanno a riversarsi nelle banche commerciali. Quel denaro è servito a comprare titoli deteriorati, che avrebbero messo in crisi banche e fondi di investimento. Questo significa riversare le perdite delle banche e dei fondi di investimento, sulle spalle dei cittadini. A inizio del 2020, viene dichiarata la pandemia, che giustifica l'emissione di una enorme quantità di denaro, destinata ad aiutare i danni causati dalle chiusure da lockdown. A marzo 2020, il governo USA, stanzia fondi per 2,2 triliardi di dollari, per aiutare i danneggiati dal lockdown. Ci dicono che il governo stanzia 1.200 dollari a persona, ma non ci dicono che i soldi sono anche destinati a comprare titoli deteriorati ETF. Tra il 14 e il 20 marzo 2020, la Fed ha comprato 1,58 miliardi di dollari di ETF sul mercato secondario, di cui 746 milioni di dollari detenuti dal fondo BlackRock. In pratica, la Federal Reserve ha salvato i fondi ETF, in particolare quelli di BlackRock, e ha così evitato una grossa crisi, più grande di quella del 2008 della Lehman Brothers. Credo che questa, sia solo una strategia temporanea, in attesa dell'introduzione della moneta digitale. Il grafico precedente, ci ha dato l'indicazione che esistono due tipi di circuiti monetari. Uno, è quello delle banche centrali, che detengono i depositi di tutte le banche, l'altro, è quello delle banche, che detengono i depositi ed il contante dei propri clienti. Le banche centrali, hanno una libertà di manovra abbastanza limitata, in quanto possono intervenire solo attraverso il cambio dei tassi, che comunque ha un forte impatto sull'economia. Con l'introduzione della moneta digitale, tutti i depositi saranno centralizzati presso le banche centrali, ed il contante sarà destinato a scomparire. Ancora non è chiaro il ruolo che ricopriranno le banche, che probabilmente saranno una specie di agenzie per i prestiti. La banca centrale avrà così il pieno controllo dei depositi di tutti i cittadini. Il progetto di identità digitale, è strettamente connesso alla moneta digitale, e alla scomparsa del contante, ed è un progetto europeo. L'Europa, ci sta in pratica obbligando, attraverso i progetti del PNRR, a far convogliare su un'unica identità digitale, tutte le informazioni sul cittadino, e l'accesso ai servizi per il cittadino. Ciò sarebbe anche positivo, visto che l'Italia non eccelle nei servizi al cittadino. Ma, attenzione, sentite bene cosa dice Ursula von der Leyen. It should come as no surprise that big tech corporations like Microsoft, IBM, and Mastercard are heavily represented in the lobby for a global system of digital IDs. E ogni volta che una web si permette di uscire un nuovo digitale identità di uscire, abbiamo in realtà non capito, cosa con i dati di uscire. una sicura, europea, digitale identità. Una che noi crediamo e che le persone e le persone che in Europa possono usare tutto, da le investimenti a le vendite. Una tecnologia con cui noi possiamo controllare quali dati sono scoperte e come si sono utilizzate. Avete sentito cosa dice Ursula? Parla dei nostri dati. I nostri dati. Su cui vogliono avere il controllo. Le parole hanno un grande peso. Ci sta dicendo che i dati dei cittadini appartengono a loro e vogliono averne il controllo. Ma quelli sono i nostri dati. Di noi cittadini. E perché vogliono averne il controllo? Perché vogliono controllare o limitare i nostri accessi ad Internet? In nome di chi parla Ursula? Di chi fa gli interessi? Non mi sembra che parli in nome di noi cittadini. Queste affermazioni sono molto inquietanti soprattutto se si pensa al controllo che vogliono imporre sugli scambi monetari. Ricordate cosa aveva detto Carstens? Capo della Banca dei Regolamenti Internazionali che è la principale istituzione bancaria. Con la moneta digitale avremo il controllo di ogni singola transazione e servirà l'approvazione della banca centrale. E ricordate cosa aveva detto Larry Fink? I mercati non amano le democrazie, preferiscono i governi totalitari. Mettendo insieme tutti i pezzi del puzzle, mi sembra che l'Europa, in collaborazione con le banche, e le multinazionali, stia predisponendo tutti gli elementi necessari per creare una dittatura monetaria. Il cartello dei banchieri anglosassoni ha pianificato un sistema oligarchico-dittatoriale, con molta lungimiranza e furbizia, apportando sostanziali cambiamenti alla società, molto diluiti nel tempo, in modo che la popolazione non potesse accorgersi dell'obiettivo finale. Dopo aver conquistato, a partire dal 1913, il diritto di emettere moneta al posto degli stati, intorno agli anni 50-60 è iniziato il processo di creazione di organizzazioni segrete, tipo il gruppo Bilderberg, la Commissione Trilaterale, il Club di Roma. Organizzazioni che sono servite ad iniziare a creare la leadership europea. La stessa Unione Europea è stata voluta, sostenuta, e finanziata dagli Stati Uniti, in un'ottica anticomunista, e di accentramento dei processi decisionali. È molto più efficace avere a che fare con una sola Europa, invece che con una ventina di stati differenti. Una volta iniziata l'infiltrazione nella politica e nei governi europei, la prima preoccupazione del cartello dei banchieri è stata di limitare le sovranità nazionali, a partire dalla sovranità monetaria. Nel 1981, avvenne il divorzio tra Ministero del Tesoro e Banca d'Italia, e fu il primo passo di cedimento di sovranità monetaria, avvenuto su pressioni politiche europee. La sovranità monetaria, fu poi definitivamente ceduta con il Trattato di Maastricht, e l'ingresso dell'Italia nell'Eurozona. Poi, pian piano, abbiamo avuto grosse limitazioni alle sovranità militari, legislative, giuridiche, e perfino sanitarie. Ormai le decisioni importanti ci vengono imposte dall'estero, e non sempre sono nell'interesse nazionale. Lo stiamo constatando con la pandemia, la guerra in Ucraina, la pseudo-crisi climatica, e soprattutto con la impossibilità di emettere moneta, che costringe i governi a continue rinunce. Lo stiamo verificando con il continuo peggioramento del tenore di vita. Oltre ad aver perso gran parte delle sue sovranità, l'Italia, è anche condizionata dai trattati internazionali. L'Europa era nata per avere una sua Costituzione, da sottoporre ad approvazione nazionale con dei referendum popolari. Dopo che i referendum svolti in Francia e Paesi Bassi, avevano ricevuto un no, da parte dei cittadini, per evitare che il popolo si esprimesse, hanno rinunciato ad avere una Costituzione europea, ed in sua vece fu firmato il Trattato di Lisbona, deciso da un numero ristretto di leaders europei. La stessa Europa, è quindi nata con regole non espresse dalla popolazione, ma da una ristretta cerchia di persone. La nostra interpretazione dei trattati internazionali, è che la nostra Costituzione, si è in subordine ai trattati, e così, vari articoli della Costituzione non sono rispettati. Per la Germania, è invece esattamente l'opposto, ogni trattato internazionale, è in subordine alla loro Costituzione. Questo, da vari decenni, è stato lo spirito dei nostri leaders, sempre pronti a sottomettersi, senza obiezioni, a decisioni che venivano prese all'estero. Dato che l'Italia ha firmato vari trattati internazionali, con varie organizzazioni, anche non governative, come ad esempio l'Organizzazione Mondiale della Sanità, o istituzioni come l'ONU, o il MES, Fondo Europeo Salva Stati, o la NATO, eccetera, il risultato finale è che si è creato un forte disallineamento tra la popolazione e la politica. In pratica i nostri voti servono a ben poco, se le decisioni ci vengono imposte dall'estero, e molto spesso sono contrari agli interessi nazionali. Ciò che aggrava la situazione, e che è veramente inaccettabile, è che questi leaders delle organizzazioni internazionali, sia governative, che non governative, sono in prevalenza persone nominate, e non elette da noi cittadini. Anzi, la maggior parte di loro, inseriti nelle istituzioni europee, e nella NATO, hanno frequentato le organizzazioni del potere, soprattutto il gruppo Bilderberg, e la Commissione Trilaterale. Alcuni di loro, come ad esempio, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Tony Blair, il canadese Justin Trudeau, la neozelandese Jacinta Arden, Magdalena Anderson, primo ministro della Svezia, Sanna Marin, primo ministro della Finlandia, e vari altri, sono stati addirittura addestrati nella scuola per giovani leaders, del World Economic Forum, altra organizzazione a supporto del cartello dei potenti. La domanda che sorge spontanea è la seguente. Questi personaggi, per chi stanno lavorando, per i loro paesi, per i loro cittadini, o sono degli infiltrati che hanno sposato la causa dei potenti, e ne portano avanti il progetto di un governo mondiale? Avendo rinunciato alla sua sovranità monetaria, l'Italia è in balia dei mercati, e delle decisioni della BCE, per quanto riguarda l'approvvigionamento monetario, di cui ogni governo ha bisogno, per ripagare il consistente debito pubblico, e per far quadrare il nostro bilancio. Non potendo emettere moneta, il nostro paese rischia il default, se l'Europa ed i mercati ci chiudono i rubinetti della moneta. Questa arma viene usata disinvoltamente, per farci accettare decisioni inaccettabili. L'hanno usata, ad esempio, per far cadere il governo Berlusconi e far nascere il governo Monti. Ce lo ha spiegato bene il senatore Massimo Garavaglia in un video pubblicato su YouTube. Video che non ho più trovato, perché evidentemente è meglio cancellare le prove. Ma Garavaglia raccontò, nel 2012, che una delegazione di ispettori della BCE, in visita a Roma, anticipò che il governo Berlusconi stava per cadere, e ci sarebbe stato un governo Monti, che andava sostenuto. Garavaglia rispose un po' seccato, che se fosse caduto il governo, probabilmente ci sarebbero state nuove elezioni e un nuovo governo. E gli ispettori dissero, No no, no, non ci siamo capiti. Se voi non sostenete il governo Monti, noi non compriamo i vostri titoli per due mesi, e voi andate in default. Sicuramente, questa minaccia non fu fatta solo a Garavaglia, che è stato l'unico a raccontarla, ma anche ad altri esponenti politici. Anche l'ex ministro Andrea Orlando ci ha raccontato un episodio simile, riguardo il pareggio di bilancio da mettere in costituzione. Orlando raccontò l'episodio, in tono amareggiato e pentito, con queste parole. L'obbligo di pareggio di bilancio, non fu il frutto di una discussione nel paese. Fu il frutto del fatto che a un certo punto, la Banca Centrale Europea, più o meno, ora la brutalizzo, disse, omettete questa clausola nella vostra Costituzione, o altrimenti chiudiamo i rubinetti, e non ci sono gli stipendi alla fine del mese. Non credo ci sia altro da aggiungere. Dato che la BCE, dovrebbe terminare le sperimentazioni sulla valuta digitale nel 2023, è probabile che nel 2024, o nel 2025, sarà messo in circolazione l'euro digitale, che, in una prima fase, circolerà in parallelo alle banconote. Abbiamo sentito Augustin Carstens, spiegarci che con la moneta digitale, sarà possibile controllare ogni singolo pagamento, chi lo fa, chi lo riceve, perché lo fa, dove lo fa, e che quel pagamento potrebbe essere bloccato. Ancora non sappiamo in cosa consistono questi controlli, lo scopriremo solo quando li metteranno. Quello che però sappiamo, è che la banca centrale ha una sua indipendenza ed autonomia, e che è in mano al sistema bancario. Esiste quindi un pericolo, abbastanza evidente, che la banca centrale potrebbe adottare, autonomamente, regole non volute dai nostri governi, sempre sotto la minaccia del ricatto monetario, o d'anche in assoluta contrapposizione con i nostri governi. La banca centrale, assumerebbe così un controllo totale, non solo dei soldi, ma anche dei comportamenti a cui devono sottostare i cittadini. Il progetto di introduzione della identità digitale europea, probabilmente sarà completato nel 2024. Il Green Pass, adottato durante la pandemia da Covid, è stato il primo tentativo di introdurre una identità europea, su cui far confluire tutti i dati del cittadino, ma il progetto è fallito. Siccome i potenti non demordono mai, sono tornati alla carica, con il nuovo progetto di identità digitale europea. Se ci pensate bene, ogni cittadino italiano, ha già una identità digitale, anzi ne abbiamo addirittura tre. Abbiamo lo Speed, che è l'identità che serve ad accedere ai servizi dello Stato, abbiamo la carta di identità elettronica, che serve come documento di riconoscimento, ed abbiamo la patente di guida digitale. Se l'Italia volesse razionalizzare la digitalizzazione, basterebbe accorpare sulla carta di identità tutti i servizi, incluso lo Speed e la patente di guida. E invece no. Si sta lavorando su un ulteriore documento di identità, che è quello europeo, e il motivo è evidente, vogliono un accentramento delle informazioni a livello europeo. Così, possono avere un controllo completo di tutti i cittadini europei, da una singola cabina di regia, sia dal punto di vista monetario, che fiscale e comportamentale. In questo modo, i governi nazionali, forniranno all'Europa un accesso, in tempo reale, ai dati dei cittadini, e sarà realizzata a pieno, l'infrastruttura per imporre una dittatura monetaria, che si potrebbe anche chiamare governo mondiale, o nuovo ordine mondiale. Probabilmente, state pensando che sto esagerando, ma se analizzate bene i fatti, vi accorgerete che tutti i progetti portati a compimento dai potenti, sono nati sotto gli auspici di buone intenzioni, di pace, di benessere, di fratellanza, ma, nel corso degli anni, sono stati completamente disattesi. Il progresso tecnologico avrebbe dovuto portare benessere, e migliorare le condizioni di vita di tutte le popolazioni del mondo. E invece, viviamo in un mondo dove la ricchezza si accumula in meno dell'1% della popolazione. I paesi del terzo mondo sono stati depredati di tutte le loro ricchezze. Siamo dilaniati dalle guerre, da carenze energetiche, e negli ultimi due decenni anche da virus, sempre più minacciosi. Virus, che risulterebbero creati nei laboratori di bioingegneria, e sviluppati come armi biologiche. Tutti i progetti, considerati teorie complottistiche, sono stati in gran parte realizzati, senza che ce ne rendessimo conto. L'accorpamento della moneta digitale, e della identità digitale, a livello europeo, sono un ulteriore passo avanti verso un unico governo mondiale. Questo governo mondiale, sarà in mano alle grandi banche, e alle grandi multinazionali. E questa non è una teoria del complotto. È la ricetta proposta da Klaus Schwab, capo del World Economic Forum, spiegata nei suoi due libri, Il Grande Reset, e La Quarta Rivoluzione Industriale. Credo di aver fornito abbastanza elementi per dimostrare che stanno tentando di imporci una dittatura monetaria, e che i nostri governi vivono sotto il ricatto monetario. Vorrei ricordare che, sia il Movimento 5 Stelle, sia la Lega, sia Fratelli d'Italia, prima di andare al governo del paese, erano fortemente critici nei confronti dell'Europa e dell'euro, addirittura c'era chi prospettava di uscire dall'euro. Una volta al potere, questi partiti hanno fatto marcia indietro di 180 gradi, e hanno dichiarato assoluta fedeltà all'Europa e all'euro, e hanno accettato tutte le imposizioni che arrivavano dall'estero. Il risultato è che il nostro debito pubblico sta aumentando, per far quadrare il bilancio dello Stato, i governi sono costretti a tagliare la spesa e a ridurre i servizi al cittadino. È per questo che la sanità non funziona bene, non ci sono soldi per la ricostruzione delle zone terremotate, la tassazione è molto elevata e le nostre aziende faticano a restare sul mercato. Le aziende non sono aiutate, ma anzi, sono vessate da una marea di controlli, tendenti a fare cassa. Come se non bastasse, dobbiamo sommessamente ubbidire ai folli di Ctad dell'Europa, che vuole imporci l'auto elettrica e la riqualificazione energetica delle case, in nome del cambiamento climatico e della riduzione della CO2, teoria decisamente confutata da scienziati e studiosi di fama mondiale. Secondo questo programma, ogni famiglia dovrebbe spendere, tra auto elettrica e lavori per la casa, oltre 50.000 euro. Mi sembra evidente che, oltre a far indebitare gli stati attraverso l'emissione di moneta a debito, vogliano far indebitare anche i cittadini, e i nostri governi non sembrano reagire con decisione a tali imposizioni. Visto che i politici accettano queste imposizioni, tocca a noi cittadini opporci, e riappropriarci dei nostri diritti e delle nostre libertà. Dobbiamo esercitare il settimo potere, che è il potere del popolo, un potere più grande di tutti gli altri, temuto dall'elite dei potenti, che ha una sua forza solo se tutti i cittadini saranno uniti. Ho creato il sito internet www.trappolamonetaria.it per documentare come un piccolo gruppo di potenti personaggi, stia cercando di imporre un nuovo sistema di governo mondiale, basato sull'uso della moneta digitale e su un controllo totale della popolazione. L'abolizione del contante è uno dei punti chiave della strategia che stanno adottando. Prima ci hanno tolto la sovranità monetaria, poi, pian piano, ci hanno tolto tutte le altre sovranità, ed i governi non fanno altro che applicare leggi che ci vengono imposte dall'Europa sotto il ricatto monetario. Ora ci stanno spingendo verso una crisi energetica ed economica, con l'obiettivo si sferrare l'attacco finale che è l'introduzione della moneta digitale, ed il controllo digitale di ogni cittadino. Tutto ciò non è altro che la realizzazione del programma del nuovo ordine mondiale, del progetto considerato complottista, ma che sta diventando realtà. Se non vogliamo diventare sudditi di uno stato dittatoriale, che ci priverà delle nostre libertà e dei diritti fondamentali dell'umanità, di cui abbiamo già visto le prime avvisaglie con la pandemia e la guerra in Ucraina, dobbiamo unire le nostre forze e dire basta, a partire dalla dittatura monetaria.